Mister, forse serve a poco, però oggi la prestazione è arrivata, un 4-1 contro una formazione importante, è una bella prestazione anche. Sì, è stata una buona prestazione, un buon risultato, peccato che è fino a se stesso, però sicuramente a livello umano, morale, per i ragazzi è comunque una cosa importante. Cosa ha visto di buono in campo, perché alla fine un 4-1 non arriva per caso? No, la partita abbiamo sviluppata bene, finalmente avevamo pochissime assenze, perché i play-out li abbiamo sempre giocati con tante tante assenze ogni partita. Oggi ne avevamo veramente poche, quindi siamo riusciti a imbastire una squadra molto competitiva, in campo si è visto. Si parlava di motivazioni, le motivazioni le avete trovate alla fine per fare una prestazione del genere? Sì, ma io quello che ho detto ai giocatori, le motivazioni dobbiamo sempre averle, perché comunque dobbiamo finire al massimo questo campionato, ma soprattutto per la dignità e il morale dei giocatori. Ecco, domenica prossima l'ultimo impegno di questo campionato, non sappiamo come andrà, la classifica di certo non è delle migliori, come si mantiene la concentrazione per questa settimana e cosa dirà ai ragazzi prima dell'ultima partita? Di giocarsi l'ultima partita cercando di avere la testa sgomba, divertirsi e ripeto, giocare per loro stessi e per le loro persone.